C'è anche una borsa qua! Oh mamma! Non l'abbiamo fatto a tenerti la borsa? Non è vero? Non è ancora buono! Guarda Francesca! Guarda la borsa! Mamma mia! Francesca! Volevo dire grazie! Aspetta, aspetta che ti diamo la borsa! Aspetta, e faccio vedere come la mamma quando avete la borsa sul passeggino, vero? Eh, sì! Eh? Così? No, aspetta che c'è! Aspetta che ti faccio vedere! Ma è questo? Sì! Aspetta, eh! Questo è il giro della sala con questo! Aspetta, guarda! Si aggancia qua così, vedi? Francesca! Ecco! Avrà mia fredda al collo, eh! No! C'è a curarli, eh! Franci qua! Oh mamma! Ci mettiamo il pecorino dopo! Va bene a casa? Perfetta Franci! Oh mamma! Franci! Sì! Ma è arrivata in fondo! E poi se la puoi anche togliere! Sotto fatto la stesa! Sì! La puoi piacciare! È bella? È Franci! Così! Fammi vedere! Fai un giro fino al fondo a spingere la caduzione! Vai! Ma che si implora! Fai! Fai! Fai un giro! 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 Allora! Fai un giro! Allora, mi scriviamo a completare della mia notifica! Ok! E allora! È finito? Grazie! Allora siete a vedere questo!